Nelle prime ore della mattinata, i carabinieri della Compagnia di Agropoli, ad Agropoli, Castellabate e Napoli, con il supporto dei militari dell'arma territorialmente competenti e delle unità antidroga del nucleo cinofili carabinieri di Sarno, hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali. Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di 14 indagati, ritenuti responsabili a vario titolo di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, rapina ed estorsione. L'attività investigativa trae origine da un episodio di rapina commesso nel dicembre 2020 in Agropoli. Dalle cui indagini è emersa l'esistenza di una consorteria criminale di cittadini italiani, tra cui figurano due donne, dediti alla vendita al dettaglio di sostanze stupefacenti del tipo hashish, cocaina, eroina, marijuana. La droga era approvvigionata nell'Interlanda Partenopeo e ceduta nelle piazze dei comuni di Agropoli, Montecorice, Torchiara, Perdifumo, Castellabate, Salento, Omignano, Ascea, Centola, Castel San Lorenzo, Castellabate e Casalvelino. Gli episodi di rapina dell'estorsione riguardavano l'imposizione violenta dei malviventi, diretta a ottenere la consegna di somme relative a debiti contratti per pregressi e acquisti di sostanza stupefacente. Nel corso dell'attività investigativa in cui sono stati tratti in arresto e in flagranza due cittadini e segnalate dall'autorità amministrativa quattro assuntori, veniva sequestrato un quantitativo di circa 5 kg tra cocaina, eroina, marihuana e hashish. Le misure cautelari applicate sono sette custodie in carcere, sei custodie domiciliari, un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.